Turismo sostenibile, agricoltura ma anche valorizzazione dei beni culturali e promozione delle eccellenze enogastronomiche. Sono sono alcuni dei 25 progetti presentati dalle cooperative di comunità che diventeranno realtà grazie alla regione toscana che attraverso il bando ha lanciato lo scorso aprile stanze a 1 milione e 200 mila euro per le iniziative portate avanti dalle cooperative nei territori più marginali che hanno bisogno di idee nuove per creare posti di lavoro, rivitalizzare i borghi, evitare lo spopolamento offrendo servizi ai residenti. Il contributo regionale coprirà fino al 70% delle spese di ogni progetto da 5 mila a un massimo di 50 mila euro. So tutte idee che rigenerano un po' quelle piccole comunità che sono i territori cosiddetti marginali che invece i marginali non sono affatto le cosiddette aree interne, quella frazione dove si è spopolata in questi anni e che ora ha la possibilità, questo è lo spirito, attraverso cos'è l'operativa di comunità poi? È una forma di collaborazione che nasce su un territorio dove per l'iniziativa di magari qualche giovane, due o tre giovani altrimenti sarebbero costretti ad andare a lavorare da un'altra parte e invece rimangono lì, ci mettono un'idea nuova e fanno un servizio pubblico. Al bando della regione hanno risposto da otto province della Toscana, si va dal progetto di Fivizzano per l'apertura di un albergo diffuso alla cooperativa Filo e Fibra che a San Casciano dei Bagni punta sull'economia circolare legata alla filiera della lana. Dal Giglio arriva invece un'iniziativa che unisce turismo, agricoltura e pesca, pensata per dare un lavoro stabile a quei giovani che vogliono rimanere a vivere nella loro isola. Il nostro progetto si basa su tre punti, abbiamo una casa accoglienza sull'agricoltura e sulla pesca, la casa accoglienza dove vorremmo organizzare dei corsi di formazione, dove vorremmo accogliere delle persone durante l'estate e durante l'inverno e dovrebbe diventare il punto di ritrovo della società, è una casa grande, chiusa. L'agricoltura che abbiamo già in produzione che ci permette di effettuare dei lavori anche invernali e così anche la pesca con la lavorazione, con le degustazioni, con tutto ciò che ne consegue. A Pracchia, sulla montagna pistoiese, la cooperativa di comunità promuoverà un turismo slow contro lo spopolamento del borgo, mentre a Cortona sarà creato un brand per i prodotti agricoli montani. Abbiamo deciso di creare una cooperativa di comunità che si occuperà prima di tutto della creazione di un marchio e di un brand e di un manifesto della montagna cortonese e quindi in maniera partecipativa stileremo un manifesto con gli indicatori che permetteranno ai produttori locali di accedere ad avere diritto a questo marchio e fare in modo che quindi tutti i prodotti che escano dalla montagna siano riconoscibili e garantiti per chi li acquista. Poi la realizzazione di una piattaforma digitale che permetterà agli abitanti della montagna di condividere servizi ma anche mezzi agricoli e opportunità e oltretutto di vendere in un'unica piattaforma tutti i loro prodotti. Nel borgo di Petroio, nel comune di Trequanda, sarà gestito un albergo diffuso e un negozio di artigianato locale. Noi ci occuperemo di turismo, andremo a recuperare un bene del comune, un albergo e un ristorante e speriamo che ovviamente creando degli utili da questa attività ricettiva e turistica di poter poi quegli utili ripoterli reinvestire nel paese.